Si arriva dal mare per poi scoprire le bellezze archeologiche e architettoniche che l'entroterra offre, e sono tantissime. Il porto turistico Marina di Cala del Sole a Licata offre numerosi servizi, un elenco che non finisce mai. Perché chi tocca terra dopo un bel viaggio nel Mediterraneo non è soltanto un ospite, è un amico. Marina di Cala del Sole è la porta di accesso sulla costa meridionale della Sicilia e da lì fino in su. Una volta arrivati qui si scopre la Valle dei Templi, che è il nostro primo viaggio che proponiamo, Caltagirone con la città della ceramica, Piazza Armerina, Villa Romana del Casale. Gela? E Gela ovviamente, con tutta l'archeologia e il museo archeologico che offre e custodisce dei reperti splendidi e si spera anche che quello di Licata venga riaperto al più presto, perché i due sono collegati, l'antica Finziade. Marina di Cala del Sole è una moderna struttura recettiva. Una volta arrivati a Marina di Cala del Sole, l'ospitality desk si mette a piena disposizione dei nostri diportisti. Offriamo tutti i servizi di cui necessitano, dal noleggio di auto, anche all'hotelleria. Parlando del settore di portistico, diciamo che Marina di Cala del Sole offre degli ottimi pontili galleggianti, può ospitare imbarcazioni da 4 a 70 metri, all'ingresso abbiamo una profondità di 6 e all'interno del porto 4 metri. Quindi ospitiamo e ospiteremo anche a breve dei grandi maxi yacht. Tutto si illumina a Marina di Cala del Sole, non si tratta del semplice porto turistico e molto di più. L'ospitality desk è aperto 7 giorni su 7, assistenza all'ormeggio H24, sorveglianza H24, in modo che i diportisti si possano sentire tutelati sia per quanto riguarda l'ormeggio che per quanto riguarda la sicurezza. L'ospitality desk parliamo quasi tutte le lingue europee, inglese, francese e tedesco, e quindi siamo nella capacità di accogliere turisti provenienti da tutto il mondo o quasi. Marina di Cala del Sole ha un listino prezzi che è competitivo con gli altri porti del Mediterraneo, quindi durante l'inverno noi abbiamo il porto pieno di persone che vengono a svernare qui, passando 7 mesi da ottobre ad aprile con dei prezzi veramente convenienti. D'estate altrettanto si tratta di un turismo diverso ma che ci dà comunque grandi soddisfazioni.